Emmanuel Macron è risultato positivo al test Covid-19. L'Eliseo ha annunciato che il presidente francese si è sottoposto al test non appena si sono manifestati i primi sintomi. Macron sta bene e non ha sviluppato una forma grave della malattia, riferisce BFMTV citando proprie fonti. In ogni caso andrà in isolamento per sette giorni. Continuerà a lavorare, scrive l'Eliseo in un comunicato e si prenderà cura delle sue attività a distanza. Macron recentemente ha segnalato di essersi più volte sottoposto al test, sempre con esito negativo. L'ultima apparizione pubblica di Macron risale a ieri, quando il presidente ha incontrato all'Eliseo il primo ministro portoghese Antonio Costa. Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez, che aveva incontrato tre giorni fa Macron a Parigi, ha sospeso tutte le sue attività pubbliche ed è entrato in isolamento. Lo stesso ha fatto il premier francese Jean Castex. Non è chiaro quali altre personalità politiche francesi ed europee dovranno auto-isolarsi per essere entrate in contatto con Macron, il quale ha partecipato a un summit UE alla fine della scorsa settimana.